Zanetti uno pulito in tutti i sensi è il giocatore che ha messo più volte la maglia della nazionale però è un cuore molto completo tu sei forte, però io sono più forte che tu lui crede di essere un cantante avviene, è pazzo vai avanti, dribbola ne uno in più e fai il gol io aiude il sogno, la migliore sensazione che un entrato può avere grazie